Una volta entrati, quando ci hanno ripreso all'entrata, mi è venuto anche da piangere, perché comunque non capita tutti i giorni. Appena entrati nello studio ho visto una mia compagnia piangere. Per me? Sì. Per me? Non lo so. Ci siamo guardate negli occhi e ho detto vabbè, siamo qua, siamo arrivate. Perché comunque Manfredonia è una città piccola, non si sono mai fatte queste cose. Certo la tensione c'è, sono molto agitate, però mi hanno promesso che daranno il meglio e l'importante è essere arrivate fin qua e uscirne a testa alta. Sono molto emozionata di questa avventura televisiva. Ehi. 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 Ehi.